la prima serie finale sono usciti in questo momento per la volata finale e che la loro avrebbero fatto un'altra guarda e più in due direttamente alla finale la prima serie finale la prima prova anche per la risa gli amici, i primi e i proverbi questi gli amici che mi sono solo per confligare in questo momento e che cercheranno ovviamente di accusare se non tornate a questi due posizioni che consentirà loro di superare il turno e approvare le spalle in grado la cosa più importante la cosa prima di andare a fare la cassa non c'è più tempo e cioè il nuovo rando è di fare del vittima solo la loro satturazione non sono state ancora un po' quindi si conclude il volo in questopatia Come abbiamo detto in Previdenza, rispetteremo.